L'anno scorso abbiamo giocato da nuovi arrivati con una passione, un trasporto fuori dal normale che ci ha anche un po' disequilibrato nel performance tra campionato e coppa perché arrivavamo un po' vuoti alle partite di campionato e questo poi si è rivelato bellissimo fino a febbraio con l'Eurolega e poi dopo è stato un po' amaro dover raccogliere i cocci perché siamo usciti per un tiro allo scadere col Barcellona che non è entrato, potevamo andare ai playoff però ragionevolmente noi abbiamo lo 0,1% di possibilità di vincere l'Eurolega forse neanche quello, dico 0,1% perché ogni volta che si va in campo si va per vincere quindi mi tengo quello 0,1% però ci sono ammesse di squadre più forti, più importanti, più abituate quest'anno noi ci siamo guadagnati con fatica ma meritatamente un master, il master della palacanestro questa è la miglior palacanestro fuori dall'NBA e giochiamo contro i migliori e noi dobbiamo competere quindi è diverso, l'anno scorso avevamo tanti veterani che potevano aiutarci quest'anno ne abbiamo meno però noi abbiamo questa grande passione e voglia di competere ma guarda io adoro Churchill perché è l'esempio del pragmatismo se io penso al mio girone penso all'inferno sulla terra però come diceva Churchill quando sei all'inferno continuo a camminare quindi io continuo a fare questo girone a giocarmi partita per partita secondo me nel nostro girone sono le due migliori squadre delle quattro migliori d'Europa che sono il Fenerbahce e Madrid che sono le due squadre con più talento poi c'è la terza squadra che mi sembra abbastanza rinnovata ma molto rinforzata che è il Chimki e poi c'è la grande squadra che ha vinto più Euroleague negli ultimi 10 anni che è Panathinaikos sperando che non sia il solito Panathinaikos anche se il roster di giocatori è estremamente intrigante manca il genio e la mente in panchina di Obradovic perché se c'era anche lui era meglio non presentarci poi ci sono le altre due squadre che sono noi e Ljubljana ma se guardo il girone mi faccio del mare da solo quindi guardiamo una partita per volta giochiamo giovedì in casa contro Ljubljana credo che per sopravvivere al girone iniziale bisogna vincere le partite in casa noi dobbiamo concentrarsi solo su quello